Salve, una breve comunicazione. Ho aperto oggi una pagina Facebook dedicata ai racconti e alle novelle di Maupassane. Perché Maupassane? Perché è un lavoro che ormai porto avanti da un po' di tempo e ho visto che sono arrivato a circa 200 novelle e racconti letti. L'intero corpus di Maupassane è di circa 300 novelle. Vedo che funzionano, queste novelle sono apprezzate, le guardate, le commentate e sono facili anche da usare. Ho già detto, sviluppano anche vari temi, vari aspetti della vita, della seconda metà dell'Ottocento e quindi della Parigide. Mostrano tante sfaccettature dell'animo umano, per cui si prestano anche a dei commenti, insomma, delle analisi e delle considerazioni. Allora pensavo di riunirle tutte un po' alla volta in una pagina Facebook dedicata appunto a racconti e novelle di Maupassane. Magari facendo il processo inverso, partendo a postare dalle più recenti alle più antiche, alle più vecchie, a quelle lette prima, in modo tale che si possa rifare il percorso inverso a quello che si trova fatto invece su YouTube, in modo che si possa andare più facilmente alle novelle più antiche, diciamo quelle lette in tempi precedenti. Vi inviterei ad iscrivervi, insomma, in questa pagina perché ho pensato di creare un luogo esclusivamente dedicato a Maupassane, visto che ha avuto un po' tanto spazio anche nel mio canale, dove chi è appassionato, insomma, di questo autore, di questi racconti, di questo modo di scrivere, si può ritrovare, insomma, può anche scambiarsi qualche idea. Dove anche ritrovare tutti insieme, raccolti in un unico spazio, tutti i suoi racconti. Spero di arrivare a concluderli, insomma. Ho già detto che tutto sommato è abbastanza facile, no? Perché sono racconti per lo più abbastanza brevi, quelli più lunghi, più impegnativi, per lo più li ho letti. Ho visto che ieri ho concluso per intero uno dei quattro volumi di cui è composta la raccolta che ho, e degli altri, anche molti racconti ho già letto. Insomma, purtroppo, con l'andare del tempo, sempre meno resteranno i racconti a disposizione ancora non letti. Finché, a Dio piacendo, non riuscirò anche a concludere tutta l'opera di Maupassane, come mi auguro, come spero di riuscire a fare, insomma. Tutto sommato, non è così difficile probabilmente arrivare alla fine, anche se magari all'inizio non me lo sarei aspettato. Vi invito, insomma, a questo breve video soltanto per invitarvi a iscrivervi, insomma, a questa pagina Facebook e magari a collaborare, insomma, mi piacerebbe se qualcuno di voi potesse prendere anche parte attiva, insomma, non so. Non sono abile a gestire una pagina Facebook e quindi magari se c'è qualcuno di più abile di me e chi vuole darmi una mano, insomma, no, anche, non so, magari se si riesce anche a promuoverla un po', insomma, la cosa non può farmi che piacere, insomma. Comunque, iscrivetevi a chi vuole, chi ha un po' di tempo, magari provi a collaborare, insomma, a dare il suo contributo. D'altro è un autore che si presta, insomma, si presta, no, a far parlare, almeno, delle storie che ci ha regalato. Una buona giornata.